l'europa ha un significato sociale in sé questa è la domanda che io mi sono posto nello studio che ho elaborato per il volume curato dal padre francesco chetta la domanda è importante perché se si risponde a questa domanda si comprende qual è il futuro dell'europa e dell'europa sociale bene a questa domanda si deve rispondere con un perché innanzitutto l'europa ha un significato sociale in sé perché essa crea equità tra stati tra gruppi che normalmente hanno e sono portatori di interessi confliggenti e soprattutto l'europa un significato sociale in sé perché crea equità intergenerazionale crea un'equità tra generazioni ora la legislazione che l'europa in questi anni in questo lungo percorso ha stratificato fa capire che c'è in sé questo significato sociale io ho utilizzato il mio punto di vista quello di un giurista del lavoro e delle relazioni industriali ho cercato di mettere in evidenza perché e come l'europa ha un significato sociale in sé bene qualche esempio per comprendere le cose più da vicino il social scoreboard ci dice questo ma anche la gestione dell'emergenza di quest'ultimo periodo della pandemia del covid 19 ci fa capire che l'europa non solo è utile per rispondere a ciò che stiamo vivendo in questi giorni cioè il breve termine ma a ciò che nel medio termine dovremo affrontare ad esempio il sostegno alle imprese ai lavoratori all'occupazione alla formazione è ancora più importante l'europa ha un significato sociale in sé in queste vicende recenti con la con riferimento alla futuro a ciò che sarà nel prossimo futuro perché l'europa grazie a interventi strutturali grazie al mess grazie alle decisioni dell'ecofin ecco permetterà di svincolarsi da una serie di limiti di bilancio e dunque di fare investimenti importanti per il futuro dunque alla domanda l'europa ha un significato sociale in sé bisogna rispondere con un forte sì un forte sì che deve essere coeso collettivo e che deve guardare al futuro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti